... Ragazzi, ragazzi, rieccoci qua su Judgment Proseguiamo a dove ce l'hanno lasciati Dovevamo andare da Okubo Se non ricordo male Abbiamo un po' riorganizzato le idee Sui nostri casi principali Ho messo insieme tutti i vari pezzi Anche se, ovviamente, il quadro completo non ce l'abbiamo ancora Io in sospeso Si può dire che non avevo forse nulla Ho giusto poca roba Sì, tipo questo, lo scrittore e anche questa Più qualche altro amico, eccetera Ma io andrei da Okubo Dopo essermi occupato di sti qua Se mi lasciassero attaccare Ah, va bene Va bene anche così Ok, che c'è? Eh sì, ci stiamo avvicinando Alla trama principale Un attimo Quello è stato investito Ok, questo mi ha lasciato un altro Estratto Ok Va bene Dicevamo, andiamo da Okubo Prendendo il taxi Sì Ok 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 Cinto penitenza e odito Ok 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 channel Sì Ah, come questo? Hai fatto davvero un'errore? Sì. Cosa cosa ha detto? Non so, non so. Mi è un'errore. In questo caso, 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 Mi ha detto anche questo. Mi ha detto anche questo. Perché non lo credo? In questo caso, c'è una notizia che c'è una notizia. Mi ha detto che non si può fare una notizia. Non è possibile. Non c'è nulla. Tu, è stato scusato a me. Ho fatto una volta che mi ha fatto un'imprimazione. Dopo aver fatto un'imprimazione, non c'è nulla. Tu, è stato un'imprimazione che mi ha fatto un'imprimazione. E allora... Quindi, due case, è veramente un'imprimazione? ... ... ... ... ... ... Grazie a tutti. Grazie a tutti. Forse i sospetti della polizia sarebbero ricaduti su Shono. Grazie. E te lo sta ripetendo. Grazie a tutti. Grazie. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Raggiungi il tender. Io penso che sia... Innocente in entrambi i casi. Mi sembra abbastanza... Veritiero il suo comportamento, la sua insistenza. Però... Le prove... A parte che ormai non ci sono più di una sua eventuale innocenza, ma... La sua insistenza... Ah, 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 ah. Grazie a tutti. E lo vedo. Chi è questo? Sui. Salitore misterioso. Al pelo. Ok. Attenzione. Dammi la bicicletta. Aspetta. Mi allontano un attimo. Per sicurezza mi curo. Ok. Ole. E dovei... Sa perché non mi viene più usarla schivata. Però piano piano. Aia. Ah ok. Beh direi che... Ci siamo. Bella pestata. Noi. 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 Ciao. Noi. E quindi al bartender non ci andiamo più? Ma c'è qualche caso secondario, non mi ricordo più se per caso... No, non gli posso neanche parlare. Ah già, perché sono insieme a lui, ok, ok, ok. Allora va bene. Ma posso almeno mangiare qualcosa? Giusto per non usare i miei... C'è il mio cibo? No, non ho male. Fammi mangiare un po'. Ok. Ok. E... qua. Faremo. Stanno le mazze, da gol. Ok. Secondo me non l'ha mandato a mura, quello lì. Però... Stiamo pestando i piedi a gente... Importante, anche più di a mura, quindi... Magari l'ha mandato... Shono. Può essere. Eh, no? Eh... Ok, quali sono spariti. Salve. Ancora quello lì. Devo andare su. Contra Murase. Dove è che era? Mmm... Qui forse... No. Scusate. Ancora più su. No, lui... E' un altro. Non c'entra niente. Qua si andava... Forse qua. No. Forse qui... No, questa non si apriva. Ah, era il deposito. Quello lì. Qui si usciva. Eh, sì, qua si... Qui si usciva. Dov'è? Murase? Aspetta. Eh no, però più su di così... No. Perlomeno da queste scale. Forse da fuori? Non mi ricordo più. Non credo da fuori, però... Vediamo. Ah, invece sì. No, non mi ricordo è opio. Ah, questo è Yagami, signore. E? Eh? Non, per favore il vostro grazie. Yagami ha detto che cosa sia così. Quindi, l'argomento di Kajihira. Eh? Se si tratta di spettare, si tratta di spettare davvero. Grazie a tutti E' un po' di rispettare il suo rispettamento. Se non è vero, non è vero che il suo amore. Mi sembrava così. Ah? Non, non c'è quello. È così, Yagami. Cosa? 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 Non è vero… Ma è vero? Cosa? Cosa? Non è vero, lui? È vero, non è vero, non è vero. Si, non è vero, non è vero. Non è vero. Già, avremo un confronto diretto con Shono al riguardo. Non è vero, non è vero. Non lo so, ma... non è vero. Non ci devo prendere anche questo momento. Grazie a tutti. ok quindi dobbiamo andare di nuovo al csfa ma mica ci sarà il cartello io non posso entrare ma liberiamoci di sta gente ok andiamo andiamo scusate scusate ok ok eh ma trova shono chiediamo alla signorina ok Ehm... voglio che vorrei ripetere... Sì? Ci sono il Shono Addeck 9? No. Ci sono sempre pronto, quindi non sere HO hatta. Certo, hai o betonato? Antretanto ne conoscete così... Buongiorno, il Yagami E? Durante il yodo Shono, ho rappresentato il橋本io di Sion Ah, dunque... Come? Come? Quale è? Quale è? Ciao Sono arrivato, Yagami. Sono Shono Mi sento? Qual è? Lì. Mi parla. Mi parla di spazio. Hmm... Sì, andiamo. Che cosa? Hmm... Aspetta... Ah, mi posso spostare? Dov'è il gattino? Non lo vedo il gattino. In alto? Hmm... Hmm... Questo è... Ci stanno chiacchierando, va bene, ok. Lo sento proprio qui ma non lo vedo. È che è fuori il buio. poteva metterlo qua dove c'erano le sedie lo vedevo subito secondo me ah eccolo infatti ho detto che era fuori ok adesso che ho trovato il gatto sono a posto aspetta no credo che Shonu sia più basso è lì lo vedo sicuramente non dobbiamo farci vedere ci cacciano via se no chiamano la sicurezza e tutto il resto e invece noi andiamo rispondendo rispondendo Sì Sì Ci ha fermato il proprio... Eh... Passerà dal retro? Ci sarà un retro in questo posto? Ah, chiediamo alla signorina La ricercatrice Sì 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 La mappa Dov'è? Qua Forse posso entrare nell'ospedale passando da qualche parte Tu sei qui Dal garage Cioè dai box Aspetta Qua vibrava Sì 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 Era il luogo più logico Vabbè Adesso aspettiamo fino al mattino Ma ce ne stavamo andando C'è un po' che mi rosa Sì Sì. Così. Vabbè, in pausa. Ah no, era giusto. Olè! Ehm, mi scusi, eh no? Ehm, mi scusi, eh no? Olè! Uè! No, via, via! Ok. Non me ne vado. Ok. Aspetta, no? Per cosa? Per la salute. No, l'ho premuto, ma... Oh! E allora? Aspetta. Sarò la mia... Ha riabbassato la vita, dov'è? Ok. Madonna. Via, via, via! Raga, pochissima vita! Vieni qua! Ah, ce l'ha... Ah, edizione! Ah, ci ha pensato lui! Vabbè, va bene così. Ehm, non ero pronto a aprire il triangolo. Eh, giusto, ci ha fornito... Eh, giusto, ci ha fornito... Eh, infatti... Ci ha fornito gli abiti, hai visto? Verifica il percorso di infiltrazione. Ah, là. Ehm... Non ci sono telecamere, no? Ah, però ci siamo ricambiati. Chiamo... C'è un bel dato che c'è il risultato. Ma c'è un po' di questo. È un po' di questo. Alla cosa che ci sia, che ci sia. E poi, non c'è un po' di questo. Non c'è un po' di questa? Ah, cosa che hai tempo, che cosa faccia per fare di questo. C'è un po' di questo. E poi, potremmo che ci saranno a parlare di delle sue, per Rodo, che ci sono un po' di questo. C'è un po' di questo. Perchè se vede rinforzare con l'esercito e la sottotitola. Certo. Allora... Mi ha fatto che hanno pensato un po' di Shono per me, ma... Cosa è? Perchè il caso della scena di solitaria del terzo, in quel momento Shono è vestito di un bacino che lui ha vestito di Grosso. Pag. ma... ...e'vito scoperto da Gagami. ... 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 e in seguito adesso Shonu si è sottratto alle conseguenze delle sue azioni e in seguito la situazione è una situazione molto importante ma questa situazione è una situazione molto importante è una situazione che ha fatto un uomo che ha fatto un uomo C'è un uomo che è stato fatto con Shono. Cosa? Cioè... Tera Sawa Emi e la sua morte per la sua morte. Non c'è quello che aveva fatto con Shono. Cioè... 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 Mi ha fatto che mi ha fatto quello che ha fatto da Emi. Ma questo è una cosa che... Come ti ha pensato quando hai iniziato questo? A Gagami ci ha fatto spesso che mi ha fatto parlare con Dokubo. Come si è stato quello che era. Mi ha fatto che mi ha fatto che mi ha fatto da Emi. Non c'è nessuno che non ha mai fatto la mia figlia. Ma non c'è nessuno che non ha mai fatto la mia figlia. Emi è veramente un figlio. Quindi, la mia figlia ha fatto la mia figlia, non ha mai fatto la mia figlia. Ho Non è un Gia, non era o Tuono Shono Non c'è nessun conto Nelon, non c'è nessun conto Non c'è nessun conto Io non ho capito Ma Ho la chione Questa è Ah Questa è E speriamo Ma lui è gracilino Non mi sembra un Cioè oddio Poi magari Diventa un'altra persona Non so Capace di uccidere in maniera violenta Per me ha usato Qualche farmaco Per far perdere La bussola o cubo Però Per me ha usato Eh facciamo qualcosa Mi seguiamo Ci siamo in ospedale Ah no Li picchiamo tutti Vabbè Cattura Shono ma 30 secondi Secondi Eh ma sta lì Dai Dai Che porca Eh sono tipo le ondate Ancora Ah questo Ok Ok A terra Devi andare Via via Ok Basta Basta No Aspetta Due minuti Due minuti Eh mi sa che potevo fare una mossa con lui Però vabbè Cioè sto premendo tasti in maniera forse nata Cioè sto premendo tasti in maniera forse nata Vai Ok 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 Sì, non è vero. Allora, vieni a tornare, ma veramente bene? Cosa? Non mi piacevole. Cosa stai attraverso il tuo秘密? Cosa è? Cosa ha detto? La mia mogra è la mia mogra. Cosa? Cosa è? La mia mogra è la mia mogra. Cosa è? Cosa è stato attraverso il lavoro? La mia mogra è la mia mogra! E' la mia mogra è la mia mogra, non lo so? E' la mia mogra è la mia mogra non so, che? Cosa è? Cosa è? Cosa è? Cosa è? Cosa sono? Cosa è? grazie a tutti Advec 9 ho provato. Il tempo è probabilmente in mattina. Perchè, mi sono stato sentito a un'occhiaire in casa. Il fatto che il Waku è stato un accidente di te, per te, è stato un accidente di te. Ma, per te, hai dovuto non aver guardato il corpo. Sì 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 gettare l'esca dobbiamo passare al contrattacco alla prossima Grazie a tutti 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 Se introduci l'ufficio della famiglia Matsugane Aspetta E dov'è? Dov'è il palazzo? Ah qua forse Aspetta Ah ok bastava solo fare così Aspetta Aspetta Eh ma devo pedinare i gasci Ma secondo me Lui sa di noi eh Guarda qualcosa mi dice che Ok dove è andato? Ah lì ok E sono Aspetta Facciamo i vaghi E adesso però Porca è un po' più difficile Aspetta Ok è in più di uno Il nostro obiettivo però Porca vacca Ecco ok ok ce l'ho ce l'ho Col potere della terza persona Dai vai via Dai vai via Come cavolo Oh alleluia Aspetta eh No eh ma allora Aspetta Devo andare la Scusami eh Vabbè che Finchè non vado lì Dove c'è il segno rosso La storia non va avanti No ma lo vedo Non è vero Ok Ok 1-1 ok In effetti Meno male Vedi con gli scagnozzi E' più difficile Si Perché se rimane indietro Uno Poi non posso andare avanti Aspetta Aspetta Ok 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 Meno male Che ho aumentato Il tempo Del pedinamento Non pensavo Sarebbe rivelato Ma dov'è Non è qui Oh madonna Aspetta Eh ma io non lo vedo Ah è là dentro Forse E mi devo Ah eccolo Mi stanno guardando Sì ma noi facciamo così Ok Dove mi devo mettere Per vederlo Forse Aspetta eh Ok qua Esatto Ok No lui è là Ma non è che mi devo mettere In un punto Specifico No forse no 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 è rimasto un po' La Ok Qua è difficile Mi sa che questo è il pedinamento Più difficile Finora Ok Adesso Prima o poi Uno si girerà Sicuro Ok Oh Oh Tavo Esti Si C'è Esticiamo Lì On Se Sì Si Non Non Si 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 Aspetta, scusi No, no, no Pazzaro, lo sto perdendo Però perché Kaito può andare? Io non ho capito Ok Oh, ne rimane uno Mi stacca la fine e rimane solo i gasci Li sta accompagnando a casa, non so Qui non c'è nessun posto dove nascondersi Eh Là forse Sì, qua Ok Ah no, come cammina Che svogliatezza Adesso si è messo a parlare Eh In teoria lui ci dovrebbe riconoscere subito Però Vabbè ci danno il tempo Sono lì a parlottare Ma dove è andato? Contro il muro Andiamo Mi nascondo qui Quanto sono già nascosto Ecco Ah Aspetta Ok Ok No Allora Guardate Giuseppe Quanto Sì Dato Contro Dato Udato Dato Ancena Dato Beh, così Scusa Devo passare a forza di qua E' un ostacolo in mezzo, attenzione Scusa 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 Scusa